Bocciato il ricorso contro il decreto di valutazione di impatto ambientale rilasciato in favore della Spectrum Geo che ha chiesto di poter effettuare attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nell'Adriatico. Il ricorso bocciato dal Tar del Lazio era stato presentato lo scorso anno dalla provincia di Teramo, da sette comuni della costa teramana e da due comuni marchigiani. Ieri sera in un post su Facebook lo ha reso noto il costituzionalista teramano Enzo Di Salvatore. La notizia è immediatamente ribalzata sul Fatto Quotidiano e su altre testate di settore. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, di fatto denuncia lo stesso Di Salvatore, ha concesso il via libera all'attività di ricerca di gas e petrolio nell'Adriatico. Cinque le regioni interessate, Abruzzo, Puglia, Molise, Emilia Romagna e Marche. I punti sollevati dalle amministrazioni nel ricorso erano fondamentalmente quattro. Il primo, il provvedimento via, riguarda aree poste entro le 12 miglia marine. Il secondo, gli enti locali non sono stati coinvolti nella procedura. Il terzo, non è stata effettuata la valutazione ambientale strategica. La vassa, infine, la richiesta di rilascio del permesso, cui, relativo al decreto via, concerne due aree di ben 30.000 km2, mentre la legge impone che non siano rilasciati i permessi di ricerca per aree superiori a 750 km2. È proprio quest'ultimo punto che finisce al centro della sentenza e viene del tutto smontata dal Tar del Lazio sulla base di questo assunto. Prospezione e ricerca non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. La Spettrungheo ha in mano solo permessi di prospezione, quindi il divieto a concedere permessi oltre 750 km2, conclude il Tribunale, non è stato avviolato. Enzo Di Salvatore, però, non ci sta e a nome dei ricorrenti, ha annunciato nel suo post l'immediato ricorso in appello al Consiglio di Stato. Vedremo, a tal proposito, come si muoveranno le amministrazioni interessate e soprattutto la provincia di Teramo.